E dopo il risultato del Sole 24 Ore, un altro weekend di successi per la giunta udinese con il sindaco Alberto Felice De Toni che si dice soddisfatto per l'esordio dei vigili, o meglio degli steward, degli addetti alla sicurezza che da venerdì scorso hanno iniziato il loro servizio presso i locali per permettere agli esercenti di continuare a somministrare gli alcolici anche dopo l'una di notte. Sì, siamo riusciti grazie alla disperabilità della regione di finanziare questo servizio degli steward, di poterli metterli in campo e come succede in tanti altri spettacoli, da quelli sportivi a quelli musicali, poter disporre degli steward davanti ai locali è molto utile l'abbiamo visto già la settimana scorsa e speriamo che la loro presenza crei le condizioni per evitare la proroga della norma anti-alcol. Ancora non c'è quindi una decisione a riguardo? No, dovremo decidere insieme al prefetto e al questore alla fine del mese che dovrà trascorrere.